La mostra internazionale di arte presepiale si è ormai inserita a pieno titolo tra le manifestazioni più prestigiose e qualificate del panorama provinciale, regionale e nazionale. La finalità e l'obiettivo è quello da una parte di valorizzare l'artigianato e le peculiarità artistiche della nostra regione, dall'altra parte quella di promuovere l'Alta Valle del Tevere e dell'Umbria incentivando la presenza di turisti e visitatori provenienti da fuori regione. Per la prossima edizione saranno presenti circa 190 espositori provenienti da varie parti d'Italia come ci spiega bene Claudio Conti, uno degli organizzatori. In particolare quest'anno avremo circa 190 presepi e questa è una cosa che tengo a dire molto sempre diversi ogni anno, quindi ogni anno noi andiamo a cercare presepi nuovi da proporre. Saranno presenti le varie associazioni storiche di collaborazione come quella di Napoli e sono due, come quella di Avellino, di Bergamo, Lecce e Palermo. Quest'anno poi non avremo in particolare una nazione ospite come normalmente avveniva per gli anni passati ma abbiamo dato un tema da svolgere a tre soggetti diversi nel campo dell'arte presepistica e non solo. Alla raccolta presepi del mondo di San Giovanni Valdarno, a un bravissimo esecutore di cere napoletano di Sorrento, Raffaele Troncone, e a un gruppo di artisti di Città di Castello che si sono messi insieme e hanno svolto proprio questo tema. L'opera di questi artisti di Città di Castello verrà messa proprio al centro dell'ala che riguarda questa sezione. Quindi avremo anche la presenza del gruppo di Aprilia, storica presenza Città di Castello, e di Penna in Teverina. Quest'anno avremo l'opportunità anche di ammirare un presepe monumentale di 4 metri per 2 costruito appositamente per la mostra di Città di Castello, all'interno del quale ci sono delle strutture che compongono la scenografia del presepe ai quali l'artista si è ispirato vedendo alcuni monumenti di Città di Castello. Quindi noi vedremo nel presepe napoletano alcuni pezzi di Città di Castello.